Per fare fronte all'emergenza aeroporto di Catania, dopo l'incendio dello scorso 16 luglio nel terminal A, potrà essere utilizzato lo scalo dell'aviazione militare italiana di Sigonella. Lo ha reso noto il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Ieri sera, afferma il governatore, ho chiamato il ministro Crosetto, al quale ho chiesto la possibilità dell'utilizzo dello scalo dell'aeroporto militare di Sigonella, dopo aver rappresentato il grave stato di criticità in cui si trova il sistema aeroportuale siciliano a seguito della ridottissima attività dello scalo di Fontana Rossa. Il ministro, aggiunge Schifani, dopo le dovute consultazioni mi ha informato circa la possibilità dell'utilizzo dello scalo militare, come già avvenuto in una precedente situazione di inagibilità dell'aeroporto di Catania a causa della pioggia di polvere vulcanica. Ringrazio a nome dei siciliani il ministro Crosetto per la grande sensibilità dimostrata sulla vicenda che, chiosa il presidente della regione siciliana, denota ancora una volta la serietà e affidabilità del governo Meloni.